L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola al fine di favorire il mantenimento ed il rinserimento delle persone ultra sessantenni residenti nel comune di Agropoli nella vita della comunità ha rinnovato anche per l'anno 2021 le attività di integrazione sociale degli anziani. Saranno scelti 26 volontari idonei che saranno impiegati con turnazione per quattro ore al giorno per sei giorni alla settimana esclusi i festivi mediante i servizi di sorveglianza presso municipio centro sociale polivalente castello parco pubblico di via taverne la domanda in carta semplice va presentata presso l'ufficio protocollo del comune entro il giorno 6 novembre 2020 il modello è disponibile presso l'ufficio dei servizi sociali la graduatoria dei volontari sarà formata tenendo conto della situazione reddituale risultante dalla dichiarazione ISE 2020 alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti certificato ISE e dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità copia di un documento di identità in caso di parità di punteggio sarà privilegiato il più anziano di età mentre l'assegnazione della postazione di sorveglianza sarà fatta d'ufficio nel medesimo nucleo familiare l'istanza può essere presentata da un solo componente